Cari amici di WebamTV, siamo a Milano al MUDEC per la mostra sul Roy Lickestein. Qui siamo di fronte alla serie di fumetti As an Open Fire, oppure nota come Bratatatatà, dove vediamo appunto tre scene di fumetto con degli aerei che sparano con i loro mitragliatori. Siamo negli anni Sessanta, gli Stati Uniti sono impegnati nella guerra del Vietnam, ricordiamoci appunto anche la canzone di Gianni Morandi, la stessa nota Bratatatatà, e quindi c'è una posizione importante dell'artista, ovviamente critica contro la guerra in Vietnam. La pop art è l'arte che negli anni Sessanta si sviluppa negli Stati Uniti e che porta sulla tela tutto ciò che è popolare, che è di uso comune dagli oggetti e in questo caso un qualcosa che nelle scrivanie, sulle librerie dei giovani ragazzi statunitensi era fortemente presente, cioè i fumetti. Lì che sta in porta i fumetti nelle opere d'arte. Il fumetto è qualcosa di comune, negli anni Sessanta il fumetto riproduce i supereroi, le grandi scene di guerra, cosa a cui il cinema ancora non poteva arrivare per l'assenza di effetti speciali, oggi invece siamo proprio nella fase in cui i supereroi dominano sul grande schermo. Negli anni Sessanta tramite il fumetto si potevano vedere città distrutte da bombardamenti, scene epiche che gli effetti speciali di allora ovviamente non potevano riprodurre con la stessa intensità. E questo Brattatatatà è una delle opere più celebri di Lickesten, è la guerra, è l'azione, l'action movie, l'action comic ed è proprio il suo omaggio a uno dei pilastri di quella che era la cultura popolare degli anni Sessanta negli Stati Uniti e anche nell'Europa occidentale. Guardate i colori, la scena, le didascalie, è un'immagine assolutamente imperdibile. Noi di WebMTV vi invitiamo a vedere al MUDEC, a vedere i tanti capolavori di Roy Lickesten esposti qui.